E adesso ancora per quanto riguarda le istituzioni ospite invito Sabrina Alfonsi, Presidente del primo Municipio del Centro Storico di Roma. Prego di accomodarsi. Buonasera e benvenuta. Le stanno per dare il microfono, intanto le do io il benvenuto, la invito ad accomodarsi al centro del palco. Prego e grazie. Grazie, intanto grazie e come ho detto entrando auguri, buon compleanno, trent'anni sono veramente da festeggiare, lo diceva il Presidente della Regione, ma chi come noi segue anche le associazioni, le realtà, è difficile veramente compiere trent'anni, ma soprattutto è difficile compierli essendo ancora assolutamente attuali nelle strategie, nelle iniziative e nelle cose che quotidianamente emette in campo Utter. Io faccio il Presidente di un Municipio che è il Municipio per eccellenza con più persone anziane di tutta la città. Noi lavoriamo, e è il motivo poi per cui abbiamo una grande sintonia con Utter, proprio molto sul ragionamento delle politiche attive per gli anziani. Oramai è vero che ci sono fattori negativi come quello della crisi economica e delle disuguaglianze, ma c'è anche un fattore positivo, se vissuto bene, che è quello dell'allungamento della vita, che in molti casi diventa un problema quando c'è la solitudine che ti assorbe quello che potrebbe essere uno invece dei momenti migliori dove riuscire anche a recuperare, in questo caso recuperare il sapere, la conoscenza di tutte quelle persone che non hanno potuto nel corso della vita appunto non acquisire competenze, magari hanno acquisito tante competenze ma non hanno avuto la possibilità invece di avere il piacere della conoscenza e che con Utter hanno tutti i giorni con questi corsi. E poi l'altra cosa bella che viene fuori dal lavoro che fa Utter è che gli anziani non sono gli anziani e anche tutti quelli che frequentano Utter non sono soltanto dei fruitori di corsi, ma diventano delle persone attive di trasmissione, di coesione, di sapere, di una partecipazione attiva all'interno della città, creano quelle reti, quelle maglie che ci riconsegnano una Roma che non è solo quella che vediamo in maniera negativa e con i problemi che ha. Quindi noi abbiamo una grande collaborazione e sono felice che Utter sia nel nostro territorio, stiamo lavorando per un progetto di sviluppo anche delle sedi perché noi abbiamo tantissimi spazi pubblici, un bene comune che non viene utilizzato. Ecco, questi beni devono essere utilizzati da realtà come quelle di Utter, stiamo lavorando per queste e facciamo un grandissimo in bocca al lupo perché tra altri trent'anni magari qualcun altro verrà a festeggiare Utter e sicuramente sarà ancora presente e soprattutto sarà ancora attuale. Grazie veramente e buon compleanno. Grazie a lei Presidente. Un omaggio anche per lei. Il professore Florenzano le darà anche la stessa targa che... Vediamo se... Dio pure a me. Naturalmente non è il professore Florenzano ma è Riccardo, chiedo scusa, ma insomma va bene. Consiglio direttivo dell'Uptter. Grazie. Grazie ancora, complimenti. Bene, allora adesso passiamo alla premiazione. Allora.